Eccoci qua, buonasera a tutti ed in particolare a chi ci segue questa sera e poi naturalmente anche e soprattutto a chi ci eseguirà durante la settimana nelle trasmissioni di replica che TRC effettua come suo solito. L'ospite di questa sera, di Sentiamo la sua, è il consigliere comunale D'Anton. Le ringrazio di aver accettato il mio annito e poi perché soprattutto in questo momento, lei lo sa, che io sono abbastanza cattivo, così dicono, mai come in questo momento, ripeto, il momento 5 stelle si trova nell'occhio del ciclone, alla luce di quello che... Su diversi livelli, su diversi livelli. Ma no, diciamo, rimaniamo nel nostro ambito. Locale. Però il biodigestore o digestore come si chiama o come si pronuncia non lo so e non lo saprò mai, comunque ci siamo capiti, insomma ha tirato in causa e soprattutto ha calamitato praticamente delle frecciate bellenosissime sia dal polo democratico sia che da Forza Italia, perché, tanto per dirla in soldoni, adesso vediamo che diranno sulla pescicoltura, su quello che verrà e poi, visto quello che avevano già detto in precedenza, a livello di ambientalismo. Allora, che rispondiamo? In realtà ti posso dire che sulla pescicoltura un mezzo passo indietro l'hanno già fatto. Sì, ma vabbè, però dopo ci ritorniamo. Certo. Però che rispondiamo a queste critiche? Beh, rispondiamo semplicemente che, nel senso, si ha l'impressione di avere a che fare con una sorta di sciacallaggio. Cioè, nel senso che, è chiarissimo, cioè nel senso che noi sono più di un anno che stiamo a lottare insieme agli altri partiti dell'opposizione, insieme ai comitati, insieme alle associazioni del territorio, grande assente l'amministrazione perché si vede in consiglio comunale, ma poi quando si tratta di fare azioni concrete, andare a parlare in regione, andare a parlare nei ministeri, non si ha notizia di questo. Noi ci siamo mossi e siamo riusciti a fare, i nostri consiglieri regionali, con il nostro supporto, sono riusciti a far approvare emendamenti che hanno bloccato nel frattempo la centrale a gas. Ovviamente il percorso, la battaglia non è finita, il vincere la guerra è ancora lontano, ma le battaglie fino adesso le stiamo vincendo. La stessa cosa vale per l'inceneritore, dove là va allargato, anche a Tarquinia, però comunque i nostri consiglieri regionali, insieme ai partiti d'opposizione, hanno fatto un'opposizione importantissima e sono riusciti a raggiungere risultati importantissimi e lì l'amministrazione la maggioranza non ha proferito parola. Neanche un grazie, neanche un complimento ai nostri consiglieri regionali, nessuno si è sprecato con un piccolo comunicato per dirgli grazie. Adesso col biodigestore, per il quale loro comunque hanno lavorato, il risultato della conferenza di servizi, cioè il parere della conferenza di servizi ha sorpreso tutti, ha sorpreso loro, ma ha sorpreso anche noi, perché hanno dato parere favorevole nonostante ci fossero dei pareri negativi, ma forti, non dei pareri negativi così, c'era il parere negativo dell'ASL che diceva che praticamente questo è un territorio martoriato e che un'ulteriore fonte di inquinamento su questo territorio mette seriamente a rischio la salute dei cittadini. È loro un parere così importante che fa riferimento a uno studio dell'ASL del 2006? Non me lo valutano prevalente, perché la conferenza di servizi oggi come funziona? Non è che se ci sono più pareri positivi rispetto ai negativi allora è positivo, no, si leggono le motivazioni, si dà importanza alle motivazioni, anche se ce n'è solo uno di negativo di parere, ma che sia prevalente in termini di motivazioni, allora vince quello. E io vorrei capire più della salute dei cittadini, che c'è stato di più importante della salute dei cittadini? Che poi tra l'altro c'è da dire, no? Tanto io ho rilevato che mi è venuto pure da ridere che il mio digestore tra l'altro non rientra in un qualcosa di straordinario, ma tanto per farci capire subito da chi ci segue, rientra nella cosiddetta transizione ecologica. È vero o no? È vero, è vero, perché purtroppo a volte per ignoranza, a volte per chi ci hanno giocato sopra, una fonte rinnovabile è stata fatta passare troppo spesso per fonte ecologicamente sostenibile, purtroppo non è sempre così. Come in questo caso il biodigestore. Come in questo caso, perché il biodigestore è una fonte rinnovabile, perché diciamo l'immondizia è una materia prima che si rinnova velocemente, ma non vuol dire che sia ecosostenibile, non sia ecoimpattante, anzi al contrario, tu produci gas che poi verrà bruciato, quindi oltre all'inquinamento del ciclo di produzione ci sarà anche la produzione di CO2, cosa che tutto il mondo sta cercando di limitare, noi a Civitavecchia non solo la facciamo, la facciamo anche enorme, 120 mila tonnellate, cioè è una cosa assurda. Poi ecco, 120 mila tonnellate, questo poi è il discorso che verrà sicuramente ripreso nel... Ma per forza, per forza c'è un piede perché tu... Ma l'andirivieni, l'andirivieni dei cambi. Ma guarda, guarda, la regione ha fatto, ma a prescindere, io non voglio entrare nel merito perché magari ci sono pro e contro, si rischia di fare due squadre di chi è pro e contro il biodigestore perché chi lo ritiene sostenibile... Come spesso accade, no? Esatto, quindi parliamo di cose pratiche. La regione ha fatto un regolamento, un piano regolatore sui rifiuti che prevede impianti che soddisfino le esigenze al massimo della provincia, quindi una sorta di divisione del lato, come per l'acqua, le divisioni del lato anche per i rifiuti. Perché? Proprio per evitare quello che dicevi tu, perché se tu fai un impianto grande è normale che per renderlo sostenibile il proprietario dell'impianto va a ricercare rifiuti pure all'estero pur di guadagnare. E tu che fai? Autorizzi un impianto di 120.000 tonnellate e pensa che a Civitavecchia ne produciamo 7.000 tonnellate. Ok? Che vuol dire? Vuol dire che tu per arrivare a 120.000 tonnellate devi prendere i rifiuti di tutti in Lazio e te li devi andare a cercare pure fuori. E allora, cioè capisci il via vai di camion in una città come Civitavecchia che già c'ha il porto, c'ha l'Enel, c'ha di tutti, cioè veramente a Civitavecchia non abbiamo nulla di cui... Poi è stata addirittura snobbata, anzi proprio tenuta in disparte come se niente fosse, anche la sentenza del Tarre. Ma assolutamente perché... Che natura al quale Tarre, al quale tribunale amministrativo regionale, si era rivolta proprio la società di Natalazzo contro la variante Roscioni. Assolutamente. Chiamiamola così perché... Sì, per far capire, per intendo, c'era lui l'assessore che l'ha proposta in Consiglio Comunale. Proprio oggi abbiamo approvato in commissione, ieri abbiamo approvato in commissione il verbale della riunione con la quale Roscioni presentava quella delibera. Quella delibera, quella variante. E tutti i consiglieri, opposizione e maggioranza, sono stati uniti nel dire, bravo Roscioni, hai fatto bene a portare questa delibera in Consiglio Comunale, noi la approviamo perché noi in effetti avevamo suggerito a Roscioni di intervenire dal punto di vista urbanistico. Lui insieme agli uffici è riuscito a trovare, diciamo, la soluzione è meno attaccabile dall'esterno e ci è riuscito perché poi quando Ambiente ha fatto ricorso al Tar, il Tar gli ha dato torto, ha detto... Appunto. Nel senso ha lasciato valida la variante che diceva che il Comune di Civitavecchia, i cittadini di Civitavecchia non vogliono quel tipo di impianti nel centro cittadino. Sembra ovvio, sembra una cosa... Allora tu, Regione, in conferenza di servizi, questa è un'altra cosa, non prendi in considerazione un aspetto così importante, questo sarà un altro dei motivi che sarà impugnato in sede di ricorso, perché tu c'è una variante approvata in Consiglio Comunale e tu nel parere urbanistico della Regione non la citi, ora dovremo vedere la determina finale perché sappiamo che il parere è favorevole, però adesso perché loro non si sono degnati neanche di motivare il parere favorevole, quindi vogliamo vedere in che modo non si ritiene prevalente il parere dell'AS, non si ritiene insormontabile le difficoltà presentate dalla sovrintendenza, è perché una città che dice che non vuole quel tipo di impianti nel centro cittadino non viene ascoltata. Sono curiosissimo di leggere questa determina. Senta, voi nella vostra dichiarazione, forse l'ha letto, io ho messo anche in evidenza nella rubrica che io curo, una rubrica che io curo settimanalmente, voi siete pronti ad appoggiare in toto l'azione dell'amministrazione. Guarda, infatti guarda, l'azione dell'amministrazione. Assolutamente sì, anzi, se loro faranno ricorso ad Aduvandum li supporteremo. Quello che mi dispiace è che dopo quello che io ritengo essere un attacco alla nostra città, perché quel parere della regione della conferenza di servizio lo ritengo essere un attacco alla dignità del Civitavecchiese, che fa l'amministrazione, si preoccupa di trovare un colpevole da accusare, escono tutti, invece di cercare l'unità, come abbiamo fatto in altre occasioni, che ha dato successo alla nostra azione, tu che fai? Esci e ci attacchi, ma chiamaci e sediamoci a tavolo e studiamo la soluzione. Purtroppo la battaglia politica prevede anche queste cose. Ma su questi argomenti non ci deve essere battaglia, ci deve essere unità. Però in tutto questo che naturalmente intristisce molto, poi ognuno ha la sua sensibilità, a me intristisce molto, però mi è venuto da sorridere che il sindaco, che naturalmente si è comportato in maniera, in questa fase, egregia, sicuramente bisogna dare atto e d'applausi, però addirittura ha accennato e fa ricorso, ha tirato fuori il reggio decreto. Ma voi, ecco, stai ridendo. No, guarda, io quando ho sentito che lui ha usato il reggio decreto... Lei che ci segue dice, sti due si sono messi a sorridere. No, no, assolutamente no, però lei si è messa a sorridere. Ma è normale, perché è sotto gli occhi di tutti, no? Cioè noi presentammo all'epoca... Ma quando ho presentato? Per tipo è una mozione dove chiedevamo di utilizzare il reggio decreto e testuali parole del sindaco furono, no, questa è una normativa che non è più desueta, non si può più utilizzare, quindi non è valida. L'assessore Magliani, vice sindaco, disse, eh no, perché voi non siete informati, la normativa è cambiata, adesso questo non si può più utilizzare. E per fortuna, per fortuna, si sono ricreduti, hanno dimostrato di aver detto una serie di sciocchezze prima, per fortuna si sono ricreduti e in conferenza di servizi hanno utilizzato il reggio decreto che è un altro appiglio a cui ci si può appendere in sede di ricorso. Allora facciamo così però, lei ha sorriso, io no, io sono serio, perché se no, 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 se no passiamo... Ma uno sorride per non piangere. Passiamo che c'è... no, perché va colpito, perché vi ricordo benissimo le prese di posizione, ma vabbè, ma tutto qua. Le prese ci prendevano in giro per questa cosa, diciamo. Però i detti sono veramente la saggezza dei popoli. non sbagliano male. Perché in politica è vero tutto e il contrario di tutto. Esattamente, da un secondo all'altro si può cantare opinione in maniera incredibile. Senta, io adesso non ho capito bene se domani o dopo domani c'è questa grossa... Mercoledì alle ore 19 a Pazzale del Pince. Allora, domani, domani. I comitati hanno organizzato, esatto, domani sera, hanno organizzato questa manifestazione a cui noi parteciperemo in massa sicuramente e chiediamo a tutti di partecipare perché questa manifestazione, che cos'è? Propedetica poi ad un'ulteriore manifestazione che si terrà sotto la pisana? Io me lo auguro, me lo auguro perché è importante... No, voglio dire perché... È importante... Guarda, a volte uno sottovaluta l'importanza delle manifestazioni. Perché se rimaniamo, scusi, scusi Dattò, se rimaniamo solo nel nostro recinto... Non serve a niente, però le assicuro che dalla regione guardano con molta attenzione quello che succede a Civitavecchia e se noi a quella manifestazione riusciamo ad essere tanti, l'informazione arriverà subito, istantanea. Se c'è la mobilizzazione di tutti i gruppi consigliari e di tutti i partiti... Noi stiamo facendo del nostro meglio per portare più persone possibili. Speriamo lo facciano anche gli altri e che le persone, anche guardando questa trasmissione, nel senso, trovino la motivazione per partecipare. Perché di solito, qual è il meccanismo? Dico, vabbè, tanto non serve a niente. Invece no, non è vero, serve. Vi assicuro che fare una manifestazione partecipata è importante, serve e manda un messaggio chiaro e forte a chi ci governa, a chi sta a un livello più alto. Poi, d'altro canto, tanto non dobbiamo dimenticare che noi siamo rappresentati da tre consiglieri comunali di maggioranza. Assoluto, regionali di maggioranza. Assolutamente, e sono convinto che almeno due su tre saranno a quella manifestazione. Beh, io spero tre su tre. Me lo auguro anch'io. No, no, vabbè, senza fare nomi. Assolutamente. Io ho già capito lei dove vuole andare a parlare. No, vabbè, però è... Però magari... Nel senso mi accontento anche di due su tre. Vabbè, ti accontenta anche di due su tre. Di poco. Prima accendava la pescicoltura. Sì. Questo sarà un altro problema. Che quando, tra poco, non so tra quanto, sicuramente siamo destinati... Sì, perché lei prima ha colto il... Adesso ritorniamo a lei, però ha colto... No, 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 no. Mi tiene il tuo come te. Hai colto perfettamente nel segno. Cioè che in politica tutto cambia da un secondo all'altro. Nel senso che tutto vale il giorno prima e non vale il giorno dopo. Come la questione della pescicoltura. Noi ci siamo espressi in Consiglio Comunale più volte contro il progetto della pescicoltura perché è ritenuto troppo invadente, perché secondo noi Enel avrebbe dovuto mettere un depuratore sull'impianto già esistente, solo che costava troppo e quindi sta cercando di ovviare, andando a impattare comunque ambientalmente su quello che è un monumento naturale, che è quello della frasca. Quindi ci siamo espressi tutti più o meno, chi per un motivo, chi per un altro, allo stesso modo, ovviamente tutelando i lavoratori, perché noi non dicevamo che la pescicoltura va giù. Il problema è tutto qua, tutto qua. Esattamente. Perché poi si casca sempre nella cosiddetta guerra... Ricatto occupazionale. ...questa strada, ma vabbè, guerra tra pochi. Esattamente, cosa che non dovrebbe esistere, perché bisogna ricordare che esiste una prescrizione che impone ad Enel di risolvere, non di giudere, di risolvere il problema della pescicoltura che sta a terra. Come si risolve il problema? Mettendo un depuratore. Il depuratore costa e quindi Enel ha trovato una soluzione più economica che è quella di far fare l'investimento alla ditta della pescicoltura portata legato. Per non tirare fuori, il concetto è quello. Che poi l'Enel tirerebbe fuori i soldi dei contribuenti. Esattamente. Alla fine è quello. Però, carino. Assolutamente. Però che succede? Che succede? Succede che proprio quando abbiamo approvato la delibera della frasca in Consiglio Comunale è stato proposto un emendamento che diceva, visto che abbiamo approvato il progetto e quindi la frasca sarà valorizzata, sarà un luogo importante per l'economia cittadina, ma andiamo quest'atto alla regione dicendo, guardate che voi state valutando questa pescicoltura. Tenete presente che adesso ci sta anche un progetto di valorizzazione approvato sulla frasca che sarà attuato a breve. Quindi considerate anche questa cosa nel paniere dei vostri elementi per valutare se è opportuno o meno dare parere favorevole a questo progetto. Per me era una cosa scontata. Ho detto, vabbè, un emendamento del genere figuriamoci se non passa. Ebbè, la maggioranza ha votato contro, ha votato contro questo emendamento. Quindi, ecco, questo mi fa preoccupare perché vuol dire, secondo me... Perché si preoccupa? Perché mi preoccupa perché probabilmente qualcuno sta cambiando idea e questo mi fa preoccupare. Questo cambiando idea... Nel senso inizia a pensare che forse un parere favorevole ci possa stare sulla pescicoltura. Non è che sta dicendo che forse interessa a qualcuno? Non lo sto dicendo, però non lo escluso. Non lo sto dicendo, ma non lo escluso. Ah, ecco, va bene. No, no, no. Certo, certo, assolutamente. Pensi un po', Dantone, che una recente intervista che io ho fatto qui, sempre la trasmissione, sentiamola solo con l'ex assessore Ruscioni, e ho fatto proprio la domanda. Lui ha detto no. Dice proprio quell'impianto di pescicoltura. proprio davanti a questo progetto che noi abbiamo fatto insieme anche sia in coambignazione naturalmente autorità portuale che già la sovvenziona. Più il progetto aggiuntivo dell'architetto evangelista dice trovarsi di fronte a queste mega cabbie, tutto quanto, parco archeologico, tutto quanto, non sarà un bel vedere. E poi veramente lì è proprio uno specchio acqueo. che va tutelato, va tutelato. Che va tutelato da punti di vista. Quindi pure lì ci sarà una bella battaglia a scoprire. Io l'abbiamo dato per scontato che quella era una problematica superata, evidentemente non lo è. Ormai sono tutte battaglie. Sono tutte battaglie. Civitavecchia, proprio parlando con dei miei amici l'altra volta, dicevo secondo me qualcuno dall'atto ha ritenuto Civitavecchia, i civitavecchiesi un popolo sacrificabile. Cioè nel senso che quando c'è da fare qualcosa che per il bene della collettività, ma che prevede il sacrificio di qualcuno, dice andiamo a sacrificare Civitavecchiesi. Tanto Civitavecchia ormai, ed è questo che noi dobbiamo combattere. Questa è un'altra cosa molto triste. È questo che noi dobbiamo combattere, ed è per questo che io mi arrabbio quando vedo che ci si attacca tra di noi. Noi dobbiamo essere compatti, dobbiamo essere uniti, perché almeno verso l'esterno dobbiamo dare l'impressione che la città di Civitavecchia si è stufata e che certe prepotenze non le vuole più subire. Questa è una cosa che deve essere capita da tutti noi che facciamo politica e anche dai cittadini. Perché in effetti proprio come città a livello di servitù non ci facciamo mancare niente. Ma guarda, veramente guarda. Il centro chimico gli volevano fare il forno per bruciare le cose chimiche e la centrale a gas dove la vogliono fare la vengono a fare qua. L'inceneritore ai confini. Secondo lei ha toccato un altro punto, naturalmente, sul quale io l'avrei un po' sollecitato, non provocato, sollecitato. Ecco, ma lei come lo vede questo percorso verso la trasformazione a gas? Guardi, io lo vedo, io sono un inguaribile ottimista. Ci siamo trovati allora. Sì, sì. E' un investimento importante perché mentre se tu calcola che l'energia, il bisogno energetico a livello mondiale è soddisfatto dal solare dello 0,01%, proprio perché servono superfici veramente grandi per produrre non tantissima energia. Mentre con l'eolico, con degli investimenti che sicuramente sono importanti, si riesce a produrre una quantità di energia che col tempo, con gli investimenti, soprattutto fatti offshore, quindi che non consumano terreno, possono andare a sopperire quello che oggi viene prodotto con le fonti fossili. Ovviamente ci vuole tempo, nel senso non è una cosa che si fa da oggi a domani, però pensare di investire nel gas, che è una risorsa per cui noi dipendiamo da paesi esteri, per i quali si chiede alle società di investire e col capacity market gliele si paga anche se non producono. Cioè è una scelta non comprensibile, non è assurda. Io, completamente ignorante in materia, mi sono fatto spiegare da gente che proprio non è neanche impegnata politicamente, il capacity market, capacity market, come si dice, lo paghiamo noi, non è che lo paga l'Enel. Sembra che però l'Europa abbia detto aspettate un attimino. No, 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 aspettate, no, l'Europa ha detto, ah sì, volete il gas? Ve l'ho pagato. Bravo, esattamente. Allora, esattamente. Esattamente, quindi io mi auguro, da ottimista quale sono, che questo sia un forte disincentivo a chi pensava di arricchirsi investendo in impianti che producono energia attraverso il gas, perché prima avevano la certezza che qualcuno gliel'avrebbe pagato, a prescindere dai... Adesso stanno pensando. Adesso ci stanno pensando. Parecchie dichiarazioni dell'amministratore legato, il dottor Starace, vanno anche in questo senso. Assolutamente. Però non vanno nello stesso senso del ministro Cingorani. Questo è il punto. È vero. È il punto, perché qui in Italia... Però prima le ho detto che noi... Caro Antopi, scusi, in Italia si sta verificando che è l'Enel, che è prevalente l'Eni, non l'Enel. Per cui il gas... Però, però... Eh no, no, è una questione... Infatti prima ho detto che stiamo vincendo delle battaglie, ma la guerra è ancora lontana da vedere una fine, soprattutto una fine che ci vede vincenti. Però prima, quando le ho detto che noi stiamo andando in giro in tutti gli uffici, perché chiediamo l'appoggio di chiunque pur di salvare questo territorio, noi siamo arrivati anche a Cingolani, noi siamo andati a parlare con Cingolani, a nome della città, dei comitati e di tutti, perché purtroppo la situazione di Civitavecchia, al di fuori di Civitavecchia, non è conosciutissima. Però quando tu parli a qualcuno, anche se questo qualcuno è un ministro, e gli dici guarda che a Civitavecchia già c'è una centrale a gas, ce n'è una a carbone, c'è il porto, c'è il centro chimico, di tutto e di più. C'è stato su 70 anni che c'è stata una centrale a olio combustibile. Ma a 40 chilometri ce ne mettono un altro. A 40 chilometri ce ne mettono un altro. Vi assicuro che l'espressione che ci hanno, perché tu quando arrivi loro vengono qua, dicendo che questo è un altro che ora si viene a lamentare, perché non vuole qualcosa nel suo giardino. Però poi quando sentono e capiscono che Civitavecchia per tanti anni ha subito tanto, anche loro iniziano a capire, forse stiamo a fare una sciocchezza, e da lì deriva il mio ottimismo, perché io sono convinto che poi alla fine, nel senso riuscendo a convincere tante persone, alla fine qualcuno avrà pietà di noi. Però io sono convinto, e lei lo sa perché mi ha detto che mi segue, quindi sono convinto che la stessa mobilitazione, che adesso sta esplodendo, speriamo che esplode proprio in maniera fragolosa, specificamente, specificiamo per il biodigestore, esploda pure se mai venisse detto sì al gas a Torre Lorde. Oh! Allora, guarda. È l'ora della mobilitazione. Assolutamente. Purtroppo per il gas i comitati hanno provato ad organizzare manifestazioni. Ti dico la verità, non sono state soddisfacenti proprio per la mancanza della partecipazione della città, dei cittadini. Allora dobbiamo trovare in modo di raggiungere tutti i cittadini, perché a volte non vengono neanche perché non ci vogliono venire, magari perché non l'hanno saputo, perché non l'hanno... A volte pure perché non tutti fanno la loro parte. A volte anche perché non tutti fanno la loro parte. No, no, diciamo. No, no, è chiaro, è chiaro. Ci dobbiamo assumere le responsabilità che abbiamo. Assolutamente. Soprattutto chi ha il compito come me, ad esempio, di rappresentare i cittadini, ha il compito di sensibilizzare quante più persone possibili a partecipare. E se lo facessero tutti, maggioranza ed opposizione... Quindi ci sarebbe proprio... Ci sarebbe veramente una bella... Purtroppo là vedi che le persone che vengono sono di una parte politica ben chiara, che ha delle connotazioni, cioè ne spaliamo su quasi tutti, a parte dall'opposizione in generale. Invece dovrebbe venire qualcuno anche della maggioranza. E certo, certo. Assolutamente i rappresentanti del centrodestra dovrebbero mobilitare i propri sostenitori e farli venire in piazza, perché lì dobbiamo, come dicevo prima, lì c'è bisogno di unità. Quindi in queste manifestazioni dobbiamo essere tutti a sollecitare la comunità e farla essere presente in queste occasioni che, ripeto, sembrano delle sciocchezze perché uno può dire tanto hai già tutto deciso. Non è così. Se uno ci si impegna e fa vedere la determinazione forte del territorio e i risultati si ottengono. Senta, consigliere D'Antonio, lei fino a questo momento è stato abbastanza sorridente, questo mi fa molto piacere, e penso che continuate a essere ancora. Me lo auguro, me lo auguro. Proprio la scorsa settimana ho avuto un ospite, un ospite, non dico, un ospite con l'ho maiuscola, sindaco di Santa Marinella, ex sindaco di Cirecchia, ex parlamentare, ex tutto, dal punto di vista politico, il dottor avvocato Pietro Tinei, il quale ad un certo punto non è cauto parole troppo caramellose. Per il Movimento 5 Stelle, come ti ho detto prima, e ti confermo che ti seguo, è la verità perché ho visto anche quella trasmissione, assolutamente sì, non dico bugie, quindi se dico che ti seguo, vuol dire che ti seguo, e ho visto tutta la trasmissione del sindaco di Cirecchia, di Cirecchia dicevo quello che aveva detto, invece già lo sento benissimo. No, no, assolutamente, posso ribattere parola per parola tutto quello che ha detto. Prima di tutto sottolineo che è ancora evidente l'astio che ha nei confronti del Movimento 5 Stelle per la sonora sconfitta che ha avuto nel 2014, praticamente la città ha detto proprio te ne devi andare, gliel'ha detto proprio in maniera esplicita, e lui però sembra non l'abbia ancora capito, perché sembra, almeno nella tua trasmissione, ha paventato la possibilità di ricandidarsi qui a Civitame, perché però nel senso... No, lui ha detto se vanno in porto certe cose, sì, però non l'ha escluso. Ribadisce la sua candidatura a Santa Parirella. Però non ha escluso la possibilità, e questo già mi fa preoccupare, e questo già mi fa preoccupare, e mi fa preoccupare perché... Ah, se però... Mi preoccupa perché... Vedi che il sorriso non c'è la più. No, è vero, perché guarda, la superficialità con cui lui ha affrontato gli argomenti nella tua trasmissione, è disarmante. Cioè lui ha affrontato, ad esempio, uno dei problemi importanti della nostra città, come quello degli usicifici, con una superficialità assurda. Cioè lui ha detto, ha trattato tutti noi come se fossimo degli stupidi, e ha detto, è facile, basta che tu prendi gli usicifici da una parte, e ti risposi sulla frasca. Quello che è successo a Santa Parirella. Esatto, e noi stavamo aspettando a lui che ci veniva a dare questo suggerimento, per dire, ah, hai capito com'è semplice togliere gli usicifici da Civitavecchia? Cioè, lei sta dicendo adesso che contesta questo che ha detto Tidei? Allora, Tidei, forse, è poco informato, oppure l'hanno informato male, per il semplice motivo, che questa è una soluzione possibile, c'è una legge che... C'è una legge. Esatto. Però che dice, che tu gli usicifici li puoi spostare su un terreno, proprietà della regione, che non stia nel patrimonio indisponibile. Quindi deve essere patrimonio disponibile. L'unico terreno, patrimonio disponibile della regione, quello più vicino a Civitavecchia, sta a Sezze. Quindi sta... Per dire... Per fatti capire... Cioè, sta in provincia di Latina. Esattamente. Quindi per farti capire che è una soluzione impossibile, perché la frasca non è patrimonio disponibile, è patrimonio indisponibile, mi sembra chiaro, no? Questo. Quindi un amministratore che non sa queste cose, o finge di non saperle, o veramente affronta i problemi con una superficialità assurda, come del resto abbiamo imparato a vedere nella storia, no? Cioè, è vero che ci stanno dei sindaci che hanno fatto delle cose, però proprio la loro superficialità ha reso tutto più complicato, più complesso. Lo vediamo con la Marina, no? Che nulla da dire, è un'opera importante di Civitavecchia che abbellisce il lungomare. Ma quanti soldi sono stati sprecati perché c'è stata superficialità nella progettazione? La Marina non doveva essere così, ci dovevano essere dei negozi sotto alla... Non sono stati aperti, perché non sono stati aperti? Come no? Poi c'è pure la polemica sotto il sindaco Moscherini, no? È chiaro, è chiaro. Ma perché? Perché tutti questi problemi vengono affrontati in questo modo, cioè in maniera superficiale. Si parla e si pensa di poter... Perché o si è superficiale o si pensa di poter prendere in giro i cittadini. C'è un comitato, persone che si stanno impegnando, un sindaco come Antonio Costolino che ha fatto fare più di mille ricorsi ai cittadini a carico del Comune per sconfiggere il problema degli usi civici e tu vieni qua a prendere in giro i cittadini e a dire guarda siete tutti stupidi perché la soluzione è questa, che è inapplicabile la soluzione. Allora a me questo veramente mi fa perdere il sorriso perché è qualcosa di quasi offensivo e poi non dico che ha difeso ma ha quasi difeso l'agraria, l'agraria che... Perché i ricorsi che noi abbiamo fatto fare ai cittadini stanno arrivando le prime sentenze e sono favorevoli ai cittadini le sentenze ti dicono che gli usi civici non ci sono perché ci sono le documentazioni che testimoniano che su quei terreni gli usi civici non ci sono e l'agraria che comunque fa riferimento alla parte politica il direttivo dell'agraria fa riferimento io ho fatto la domanda che lei l'ha assumito ho detto ma come c'è stata gente che ha fatto delle cose e ha vinto la causa e l'agraria che fa? ognuno che fa e vince la causa la vince per sé no ma magari troppo come sua ma magari fosse così la risposta sua è stata magari è vero che diciamo i risultati sono la... certo però due sole cose io agraria se fossi veramente un'istituzione interessata al bene dei cittadini ho detto sto perdendo i ricorsi vuol dire che forse questa gente c'ha ragione allora avvio un processo per risolvere il problema ai cittadini e non faccio ricorso alla sentenza del Tar vado in Consiglio di Stato prolungando l'agonia dei cittadini quindi a discapito dei cittadini cioè tu la dimostri che non vuoi risolvere il problema dei cittadini perché il Tar te l'ha risolto tu sei andato in Consiglio di Stato perché vuoi dare torto al cittadino non c'è dubbio perché qual è il tuo interesse è che tu vuoi continuare a incassare la liquidazione degli usi civici presso l'agraria cosa che va a discapito dei cittadini e non va in favore di una soluzione giusta perché noi ci perché io mi metto in mezzo perché gli usi civici ce l'ho pure su casa mia cioè è un'ingiustizia che noi abbiamo subito in maniera veramente assurda cioè noi abbiamo comprato casa libera da qualsiasi vincolo e all'improvviso ti vengono a dire che casa non è più casa tua perché perché ma è certo cioè è assurda come cosa è onestamente cercare di diversare su soluzioni chiare perché c'è un tar c'è un commissario degli usi civici ci sono delle sentenze che ti dicono che lì gli usi civici non ci stanno tergiversare e portare diciamo all'infinito questa questione è un offe io mi sento offeso come amministratore pubblico però ti dèi a un certo punto a me mi ha colpito molto naturalmente ha detto che di fatto perché io guardo mi ha fatto la domanda ma come mai che le elezioni il rinnovo tutto quanto dell'establishment dell'agraria non si fa perché lì si dice di fatto è un ente l'ente lo dobbiamo considerare un ente privato ma io ancora infatti infatti purtroppo purtroppo è così li ha detto una cosa giusta ma ce sarà qualcuno ma infatti la soluzione a questo punto cioè domani se io vado lì mi nomino autopresidente infatti quando uno poi parla dei consiglieri regionali quello che i consiglieri regionali stanno lavorando senza diciamo pubblicizzare troppo però è un lavoro che stanno facendo è quello di togliere il giocattolino da mano all'agraria perché è la regione che che è responsabile degli usi civici dovrebbero essere loro a questo punto a gestire una situazione così complessa come quella che si è venuta a creare a Civitavecchia quindi la soluzione migliore sarebbe che la regione toglie dalle mani di un ente privato la gestione di una cosa lo può fare e lo deve fare e loro stanno provando a spingere avviando un processo che purtroppo non è semplice sia per problemi politici sia per problemi tecnici quindi amministrativi non è semplicissimo però io mi auguro che nel giro di uno due anni riescano riescano a togliere dalle mani di queste persone io vado al manicomio lo so se non dovesse io che ce l'ho su casa gli usi civici ma se non dovesse riuscire quindi uno fa il presidente vita naturale durante no per quanto riguarda le elezioni quello entro quest'anno mi sembra hanno detto settembre di quest'anno ci devono andare obbligatoriamente perché il prefetto proprio li ha obbligati io parlo proprio della gestione nauseabonda degli usi civici fatta da parte di quell'istituto su questo territorio va proprio perché non può essere perché magari loro perdono le elezioni viene qualcun altro ma non si può rischiare che poi dopo arrivi qualcun altro che rimetta cioè deve essere risolta una volta e per tutte secondo me l'unico ente che può risolvere definitivamente questa soluzione è la regione e lo stanno facendo stanno lavorando per risolverlo comunque l'onorevole nonché sindaco di Dei insomma no guarda sono stato contento che mi hai fatto questa domanda perché lui ha trattato bene tutti attaccato in maniera solo i 5 stelle nel senso non hanno fatto niente non hanno fatto di qua non hanno fatto di là cioè addirittura secondo lui noi saremo peggio di tedesco quello che abbiamo fatto noi saremo stati peggio di questa amministrazione che ci sta guidando adesso quindi orressamente detto da lui poi senta Antone ma a prescindere dal biodigestor che diciamo così è quello che è quello che si sta verificando continua a giudicare in maniera insufficiente l'azione amministrativa attuale si guarda perché no voi come movimento 5 stelle assolutamente sì cioè nel senso loro stanno stanno facendo facendo l'ordinario vendendolo per straordinario cioè io ho letto proprio poco tempo fa mi sembra che era il vice sindaco che andava sulla stampa perché aveva fatto la pulizia dei fossi non è che su questo c'è il copyright io la rubo questa ma assolutamente io la rubo con gli squilli di trombe perché sembrava chissà che avevano fatto quindi io in questa amministrazione non vedo una prospettiva futura per questa città non c'è progetto non c'è progettualità non c'è visione futura noi è vero che forse come amministrazione 5 stelle non siamo riusciti a trasmettere a comunicarlo quello che volevamo che questa città diventasse però noi avevamo una visione futura avevamo 16 progetti di valorizzazione del fondo che loro hanno abbandonato che potevano veramente cambiare il volto di questa città sicuramente non volevamo impianti mastrodontici di rifiuti come il biodigestore e tutto il resto questo è poco ma è sicuro ma poi manca proprio il fatto che cambiano assessori ogni 6 mesi ogni 4 mesi ti dà proprio lo spessore cioè non c'è continuità non c'è progettualità è quello che manca è quello di cui questa città ha bisogno e poi no ma poi è grave guarda non mi hai fatto in mente una cosa noi ieri abbiamo fatto commissione si è iniziata a parlare del commissione edilizia e si è iniziata a parlare di una delibera di consiglio comunale che recepisce le prescrizioni di una delibera regionale per quanto riguarda il comparto termale è riferita alla figoncella io in un primo momento ti dico la verità non gli ho dato peso pensavo vabbè ci sarà qualche prescrizione che forse gli ha dato la sovrintendenza che va recepita all'interno all'interno del nostro regolamento invece no cioè io ancora non ne sono certo però lo anticipo e lo anticipo anche a loro perché se l'intenzione è questa bisogna stare molto attenti cioè questi stanno cercando di far passare la riqualificazione della figoncella quel progetto sempre riuscione esatto vogliono far passare la riqualificazione della figoncella come il completamento del progetto del comparto termale cioè il router che sta su all'acqua felix per sbloccare tutti i progetti che stanno intorno all'acqua felix che tutto hanno a che fare con Civitale tranne che col termalismo esatto quindi di termale non ci hanno niente quindi cioè capisci bene loro non riqualificano il rudere fanno una lavata di faccia alla figoncella riqualificano la figoncella e dicono oh noi abbiamo attuato il comparto termale il progetto delle termine adesso tutte le costruzioni supermercati si può costruire cioè una città una nuova città che poi uno perché io pure a loro lo vorrei far capire quando uno dice voi non avete autorizzato costruzioni enormi cioè se tu pensi ci sono 3.000 problemi per i quali tu non devi autorizzare una cosa del genere uno per esempio è l'acqua cioè noi con l'acqua al Civitamecchia già andiamo così pelo meno se tu mi aggiungi in altra città su una zona come quella che già soffre di carenza idrica a parte il consumo di suole ma proprio la sostenibilità questo potrebbe succedere questo potrebbe io l'ho voluto dire è inedito perché è proprio recentissimo non ne sono manco certo quindi guarda la dico all'acqua come avvertimento nel senso sappiate che se state provando a fare una cosa del genere noi vi metteremo i bastoni tra le ruote ma perché noi siamo pro termalismo a Civitavecchia ma non speculazione perché quella è una vera e propria speculazione cioè tu devi sviluppare noi siamo andati via lasciando qui un progetto che era stato presentato dai proprietari delle terme dei papi per i quali non serviva niente ci investivano tutto loro si sono comprati anche il casale quello che sta sopra la famiglia hanno presentato un progetto bellissimo li hanno mandati via li hanno mandati via ma si sa benissimo chi sono tutti quei terreni intorno al casale è inutile che facciamo il nome e i cognomi però si sa benissimo poi verranno voi senta proprio c'è stato il classico come fuochi artificiali il botto finale botto finale però mancano 5 minuti perché il tempo è volato è volato è vero e c'è la tradizione di questa trasmissione che lei conosce mi taccio lei si rivolga a chi ci segue e a chi ci seguirà nelle repliche della settimana guarda io cosa vuol dire a chi ci segue io vorrei approfittare proprio ribadendo quello che ci siamo 5 minuti quello che ci siamo detti prima cioè nel senso vorrei chiedere a tutti di non rassegnarsi non rassegnatevi perché Civitavecchia ha bisogno non solo dell'azione politica ma ha bisogno dell'azione di tutti i cittadini tutti i cittadini devono partecipare per far vedere che la città veramente vuole cambiare vuole difendersi da questi abusi sopprusi che stanno al di là del colore politico al di là del colore politico infatti se ci hai fatto caso in questi ultimi 5 minuti non voglio parlare niente di amministrazione tedesco nel senso tutta la classe politica tutti i cittadini chi sta guardando questa trasmissione mercoledì alle 19 a piazzale del Pincio c'è un appuntamento importantissimo perché se noi facciamo vedere che ci siamo e siamo tutti disposti a combattere per difendere la nostra città noi avremo la possibilità un domani di vivere in una città bellissima perché Civitavecchia è una città bellissima che ha solo bisogno di essere amata e apprezzata da chi la vive quindi difendiamola e facciamo di tutto affinché queste persone che pensano solo al guadagno solo al denaro non trovino terreno fertile su una città come la nostra questo è l'appello che mi sento di fare in chiusura di questa trasmissione Giametti ringrazio per avermelo fatto fare spero veramente che tutti politica in primis sia ad operi affinché si riesca a mobilitare il più grosso numero di persone possibile affinché il messaggio arrivi forte e chiaro a chi prende decisioni sopra di noi potrei farne a meno ma io sottoscrivo il messaggio grazie e la ringrazio grazie a te veramente di cuore a questa trasmissione e naturalmente ringrazio chi ha avuto la pazienza di seguirci fino a questo momento a martedì prossimo grazie a tutti a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.